Direi ottimo perché un ulteriore passo verso il consolidamento dell'azione amministrativa, la messa in sicurezza dell'ente, delle società partecipate, un ottimo lavoro tra mille difficoltà, in particolare si va verso il sociale, le società partecipate, i servizi essenziali, che era un passaggio fondamentale. L'abbiamo fatto con la maggioranza, con il contributo anche di altri che stanno avendo un atteggiamento responsabile e invece con l'atteggiamento pilatesco da un punto di vista politico di chi poi si è sfilato cercando di far mancare il numero regale e quindi producendo un danno considerevole ai cittadini della nostra città. Questa manovra messa in atto dal centrodestra e dal Partito Democratico non è passata, è stata respinta.